Capiamo che percorso fanno questi generi alimentari, come arrivano nelle zone e come vengono distribuiti. A Fano esiste un magazzino gestito dal Banco Alimentare che ha una competenza territoriale regionale per le marche Nord. Quindi gli enti che sono accreditati al Banco Alimentare hanno l'opportunità di prendere questi prodotti della comunità europea. Gli enti accreditati sono associazioni di volontariato, parrocchie, carità diocesana anche e il percorso qual è che regolarmente, una volta al mese, in base all'appuntamento che viene dato, questi enti si rivolgono al Banco Alimentare, fanno la loro raccolta periodica e riportano questi prodotti nel proprio centro, entrano nel proprio magazzino e poi distribuiscono le persone in difficoltà in base ai criteri che si dà a ogni realtà. Quello che destra un po' la sorpresa è le quantità che vengono buttate via. Sono tante, non possono essere riconducibili solo a una famiglia o a un nucleo familiare? Esatto, dalla foto che mi ha mostrato mi ha colpito il fatto che fossero localizzati nel suo posto quantitativi enormi, che non possono assolutamente essere quantitativi e che vengono distribuiti a una famiglia o a una persona in difficoltà, perché la procedura, perlomeno che utilizziamo noi come Caritas, che tra l'altro poi non sono mai esaustivi, e quindi integriamo anche con altri prodotti acquistandoli o recuperandoli come eccedenze alimentari. Dicevo, non possono essere dati così tanto a una famiglia, perché l'obiettivo non è quello di sfamare il nucleo, la famiglia per un mese intero fino a quando non ricade la nuova distribuzione, ma è un gesto di vicinanza, di sostegno, di incoraggiamento, quindi delle quantità così esagerate non possono essere quantità di una famiglia sola, sinceramente. Ecco, rivolgiamo un appello, se è possibile, voi che toccate con mano la necessità e la difficoltà di chi veramente non riesce a mangiare, che chi è in essere di questa cosa non lo faccia, oppure se è in eccesso lo ridia a chi ne ha bisogno? Allora, se fosse la famiglia in difficoltà, il singolo che fa questo gesto, mi sento di dire non ha senso, non ritirarlo o distribuiscilo ad amici, persone che sono in difficoltà come te, non ha senso questo rifiuto, questo gesto. Ma ripeto, come dicevo prima, non credo che sia il gesto di un singolo. Se qualcuno, qualche soggetto che ha intenzione di screditare il circuito della solidarietà, non caschiamoci perché sinceramente non è questo quello che può aiutare la nostra comunità.